Bella ragazzi, se volete acquistare crediti vi straconsiglio i GVut, i prezzi e le consegne sono tra le migliori circolazioni e con il codice malati tutto in maiuscolo avrete anche il 6% di sconto, link in descrizione Bella ragazzi, qui Mr. Shine e oggi sono qui a presentarvi questo mio nuovo video della compravinta su FIFA Ultimate Team Ragazzi, oggi volevo presentare un super metodo che mi sta facendo guadagnare circa 50.000 crediti all'ora Tutto questo è stato possibile grazie alle sfide Grazioni Rosa, in particolare alla lista Incontri Principali e la sfida Spartak contro CSKA Mosca In poche parole questa sfida richiede ben 3 trequartisti russi, ovvero 3 COC e quindi di conseguenza il prezzo di questi trequartisti russi è salito vertiginosamente Ora vi farò vedere un metodo che sfrutta questo alzamento dei prezzi per guadagnare bei crediti Questo metodo consiste nel comprare un CDC russo e trasformarlo prima in CC e in un secondo momento in un COC Vi faccio un esempio in live Allora, andiamo sul mercato e mettiamo qualità oro, ruolo CDC e nazionalità russa Ora dobbiamo comprare qualche CDC a 350 crediti all'offerta Ok ragazzi, ho comprato su 10 offerte due CDC a 350 Quindi se voi avete difficoltà a comprare le 350 crediti, a 400 crediti li comprirete al 100% Quindi ora dobbiamo comprare due cambiare uno CDCCC e CCCOC Ora vi faccio vedere a quanto dovete comprarli Allora, io già l'ho comprato prima off camera Vi faccio vedere che CDCCC si trova sui 950 a 1000 crediti A 950 potete fare qualche offerta, a 1000 crediti si trova a compra ora E invece, vedete, l'ho comprato un paio a 950 Insomma tutto a 950 Poi invece, CCCCOC si trova sui 250 Qualche volta a 200 si trova Sempre con l'offerta attuale ragazzi Perché al compra ora, CCCCOC si trova sui 350 Facendo l'offerta, voi massimizzerete tutto il guadagno Quindi Ah, questo lo comprato 350 prima Sempre CDC russo Quindi, facciamo caso 350 più 950 Fa 1300 1300 più 1300 più 200 fa 1500 E noi ora vi faccio vedere quanto costa appunto un COC russo Ragazzi No, ho sbagliato La città russa 26, ecco qua Ragazzi, si trova sui 2400 crediti Anzi, tutto 2400 non ci sta 2005 nemmeno 2006 ce ne sono solo un paio, diciamo Quindi il suo prezzo sarà sui 2005-2006 Quindi ora cliccherò tutti i cambiarulo E vi farò vedere che l'ho venduto a 2005-2006 Ok ragazzi, dopo averlo trasformato da CDC a COC tramite due cambiaruoli Ora possiamo venderlo a 2500 al compra ora Ragazzi, vi ricordo che in totale ho pagato 1500, quindi un guadagno di 1000 crediti al giocatore Ora mettiamo all'asta Ragazzi, dopo neanche due minuti ho venduto tutti e tre i giocatori con un profitto di 1K se non oltre ciascuno 2005-2005-2005 Volevo inoltre ricordarvi che questa sfida terminerà tra due giorni Quindi questo metodo non sarà disponibile per molto Sbrigatevi a farlo Infine, volevo ricordarvi che io ho un canale YouTube Che troverete in descrizione Dove porto molti contenuti su FIFA 17 Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Io vi saluto e alla prossima Ciao